dal Vangelo secondo Marco in quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo la gente chi dice che io sia ed essi gli risposero Giovanni il Battista altri dicono Elia e altri uno dei profeti ed egli domandava loro ma voi chi dite che io sia Pietro gli rispose tu sei Cristo e ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno e cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani dai capi dei sacerdoti e dagli scrivi venire ucciso e dopo tre giorni risorgere faceva questo discorso apertamente Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo ma egli voltatosi guardando i suoi discepoli rimproverò Pietro e disse va dietro a me Satana perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini